Ciao! Questo è un video sui più utilizzati per la skin care di febbraio quello che vi ho fatto vedere nei mesi scorsi non ve lo faccio rivedere perché molte cose sono sempre quelle questa volta parto dai capelli come shampoo sto utilizzando sempre gli stessi, quello della saponaria, quello della sante però purtroppo questo mese sono dovuta tornare a lui, questo della Vichy perché quando sono stata a Londra abbiamo fatto una pochette in due per quanto riguarda la skin care e mio marito è sempre abituato a utilizzare i prodotti La Garnier su quattro giorni avrei lavato i capelli una volta perché comunque li lavavo la mattina prima di partire e ho detto va bene, non lo so, probabilmente è stato che i miei capelli non erano più abituati a quel tipo di shampoo un insieme di cose, magari il freddo perché ho notato che sui miei capelli la forfora esce di più quando c'è il cambio di stagione tra caldo e freddo quindi probabilmente un mix di cose non so quanta forfora mi è uscita, ma tantissima e l'unica soluzione che ho trovato è ritornare a questo che io ho ancora sempre in doccia perché è la mia salvezza ed è lo shampoo della Vichy ora lo sto utilizzando un lavaggio sì e uno no e la situazione è tornata normale è uno shampoo per me fantastico costa abbastanza perché comunque costa sui 10 euro ha questo coloraccio che vedete qui puzza di uova marce però con questo io sono a posto non ho più problemi di forfora ora devo capire da cosa è stato dato questo problema ma sicuramente è un mix di cose penso ecco il fatto che non ero più abituata a quegli shampoo e il fatto che comunque era molto freddo quindi probabilmente l'insieme di cose ora non lo so però sicuramente è cambiato qualcosa anche nel mio modo di mangiare non lo so, non me lo so spiegare comunque sono tornata a questo e questo shampoo mi ha salvato dalla forfora perché nonostante tutte le persone poi mi dicono non li devi lavare però tutti i giorni perché meglio tenerli un giorno in più sporchi se no i capelli comunque si rovinano a me fa schifo vedere la forfora sui miei capelli quindi quando sono tornata per una settimana ho lavato i capelli tutti i giorni una volta con questo una volta con lo shampoo della saponaria e ora la mia cute sta bene dopo 15 giorni posso dire che la mia cute sta bene non ho problemi adesso ma fortunatamente questo shampoo è sempre lì nella doccia poi passando al corpo come scrub ho iniziato ad utilizzare questo della Delidea l'esfoliante corpo rigenerante delicato, idratante, albicocca e mango questo ha una profumazione fruttata perché si sente molto sia l'albicocca che il mango è fatto così è una crema e come scrub mi piace molto perché lo trovo molto efficace perché ha dei granuli belli che si sentono belli forti e mi piace molto l'unica cosa è che non lo trovo abbastanza idratante per la mia pelle perché fino ad oggi sono stata abituata ad utilizzare degli scrub che oltre ad essere belli forti che scrubbano abbastanza bene andavano poi anche ad idratarmi comunque la pelle questo non lo fa è semplicemente uno scrub poi dopo devo andare a passare comunque una crema abbastanza idratante perché già la mia pelle è secca di suo però come scrub in sé lo trovo molto molto valido ecco vi devono piacere gli scrub quelli che si sentono insomma a me per il corpo piacciono quindi mi va bene come crema corpo sto finendo questa della Bema la Bio Passion Special Edition emulsione corpo vaniglia questa che mi aveva regalata la Simon Simon Loves Makeup questa qui è una crema fantastica sa veramente di vaniglia si sente che la profumazione di vaniglia è una profumazione naturale non ha quell'odore chimico è molto molto idratante fa un pochino di scia bianca la devo massaggiare ecco magari qualcosa in più rispetto alle altre creme però mi lascia la pelle morbidissima profumata perché la profumazione persiste e la pelle idratata mi dura da mattina a sera non so di preciso il prezzo ma non credo costi poco e probabilmente quando siccome sta quasi finendo e adesso dati hanno messo anche la linea della Bema passerò a vedere se la trovo perché è una crema fantastica per me che ho la pelle secca è veramente qualcosa di spettacolare sempre per il corpo ho iniziato a utilizzare la lume di rocca il Deo Stick questo qui è praticamente la pietrina fatta così che si bagna sotto l'acqua e voi la dovete passare poi sotto le ascelle ero un po' ascettica diciamo su questo perché alla fine cioè boh non credevo che potesse essere efficace invece mi devo ricredere io la mattina passo questo sotto l'acqua lo passo sulle ascelle e poi diciamo vado comunque a dare una spruzzata dell'altro ridorante sempre della natura amica la lume di rocca quella al talco e io sono bella profumata tranquilla per tutta la giornata anche se sudo non puzzo non diciamo che anche ero titubante però effettivamente è un prodotto valido costa sui 4 euro mi sembra 4 euro e 50 però alla fine non è un prodotto che terminate in un mese in due mesi ha una durata comunque lunga nel tempo quindi anche se costasse un po' di più è una spesa che si può tranquillamente fare poi un'altra cosa che è sempre per il corpo è la crema mani e piedi della human and kind e questa me l'ha regalata sempre la simon simon loves make up questa per natale ed è questa qui questa crema è idratante molto molto idratante non si assorbe subito però una volta che si assorbe sentite la differenza con qualsiasi altra crema cioè sentite la differenza perché capite proprio che è una crema idratante perché lascia la pelle morbida io la utilizzo di sera sia sulle mani che sui piedi e la mattina mi sveglio con la pelle morbidissima non è una crema che potete portare in giro perché ci vuole più per farla assorbire non è di quelle che una volta stesa le mani le avete asciutte però è fantastica è una pecca puzza da morire ma proprio puzza non so nemmeno dire io mi sa di sciroppo non lo so puzza per me però la utilizzo lo stesso perché è super idratante e Simon questa me la ruba mio marito tutte le sere perché la usa anche lui perché lui ha le mani veramente secchissime e questa la mette ogni sera perché la mattina si sveglia con le mani morbide nonostante ecco la puzza la trovo un'ottima crema l'ultimo prodotto che ho iniziato ad utilizzare da poco ma perché mi pizzica sempre il naso non lo sapremo mai l'ultima è la soft bubble mousse della bema della linea baby che io ho preso da Tigota è questa qui e qui dice una mousse che deterge delicatamente la pelle dei più piccoli la sua formulazione è estremamente specifica durante il cambio del pannolino lava efficacemente ed eleniona il cattivo odore e muore il tutto naturale il balsamo di Copaiba dona alla pelle un'idratazione immediata questo prodotto a me piace tantissimo io lo uso come detergente per il viso e l'ho preso principalmente perché a me è sempre piaciuta la consistenza della mousse riso venere di Bottega Verdi ma purtroppo non la fanno più e questa era una mousse ha una consistenza proprio di una mousse è una coccola sul viso questa è la consistenza io lo sto utilizzando sia mattina che sera e applicata sul viso bagnato fa molta schiuma è profumata e lascia la pelle morbida veramente morbida è proprio un prodotto proprio limitivo cioè è un prodotto che si sente che è adatto per il culetto dei bambini perché quando diciamo che in queste ultime tre settimane ci sono stati dei giorni in cui ha fatto veramente freddo e quando tira molto vento a me tende un pochino ad arrossarsi la zona questa qui in più c'è stato il fatto che avevo fatto la ceretta avevo fatto i baffetti e mi si era diciamo un po' irritata la zona passando questo detergente veramente va a allenire la pelle perché toglie subito i rossori e sentite la pelle veramente morbida profumata si costa 11 euro però sono ora non mi ricordo sono 250 ml e ne serve davvero poca per detergere tutto il viso diciamo che più o meno è quasi ecco si sono tre settimane che la utilizzo e la confezione comunque ancora piena è il secondo prodotto di Bema che provo e devo dire che sono molto tentata ad acquistare altre cose perché i due prodotti che ho provato fino adesso mi sono sembrati molto buoni ora andrò a fare un giro la tigota e vedrò insomma e niente ragazzi questo era tutto fatemi sapere se li avete mai provati e ci vediamo al prossimo video ciao ciao